Signora, com'è l'aria a Casteldebo del giorno dopo, la salvezza? È leggerissima, bellissima, stupenda. La leggerezza nel cuore è tanta, perché sono stati mesi abbastanza pesanti per un tifoso, comunque ce l'hanno fatta. Tutti confermati? Io spero di sì, con 4-5 inestri fare più di quest'anno, più della salvezza. Puntiamo sempre all'Europa, speriamo che rimanga Mijalovic, il presidente, e gli faccia dei giocatori come a lui. Se Mijalovic va via? Speriamo di nozze, di tenerlo, visto che ha fatto una bella annata nel giro di ritorno. Qualche acquisto che le piacerebbe vedere? Ce ne sarebbero, tipo un attaccante. Appena è arrivato Mijalovic, ho visto la prima partita in casa, non avevo più dubbi. Adesso cosa deve succedere? L'ho urlato prima, a luglio li voglio tutti qua. Ha fatto venire il sole la salvezza, perfetto, ci voleva. Speriamo nel futuro. Se vuol turno, con precisione. E come mai a Casteldebole? No, noi abitiamo qui da 15 anni e abbiamo approfittato per vedere l'allenamento. Come si muovono i ragazzi per portare tutto a Casteldebole? Quindi si studia, anche se la partita ormai... Sono obiettivo, sarà una partita di un X, prevedo un X, un 2-2 con gol, tanto non... anche se Bologna proverà a racciuffare sto decimo posto.